A Taranto bisogna costruire l'alternativa alla grande industria e l'artigianato certamente è uno strumento, è la via da percorrere considerando anche la storia di Taranto. E allora siamo con il presidente nazionale di Assomarmo, Federico Greco, un'associazione nata di recente che vuole esaltare anche queste peculiarità artigianali del territorio. Come vi state muovendo? Ci stiamo muovendo sicuramente cercando di associare quante più imprese possibili tra le nostre liste. Sicuramente ci affacciamo a imprese artigianali della lavorazione del marmo e quindi praticamente cerchiamo di racchiudere all'interno di Assomarmo tutte quelle lavorazioni legate al marmo. Quindi scalpellini, eventualmente segherie e tutta praticamente la filiera completa del marmo. Riscoprendo certe antiche tradizioni, questi antichi mestieri? Riscoprendo antichi mestieri sicuramente il lavoro dello scalpellino che oramai è andato in disuso. O desueto? Sicuramente è un po' desueto per quanto riguarda l'avvento poi dei macchinari a controllo numerico. Greco, occorre certamente un appello anche alle istituzioni perché voi rappresentanti del mondo dell'artigianato, piccoli imprenditori, avete bisogno del supporto delle istituzioni? Sicuramente abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni, tanto è vero che quando associazioni di categoria, imprenditori e comunque istituzioni lavorano praticamente per il bene della città, sicuramente si possono creare progetti adatti sicuramente al territorio. E allora, no alla grande industria? Sì, al mondo dell'artigianato? Sì, ad Assomarmo. Sì, ad Assomarmo.